ciao a tutti ragazzi questo non è proprio un video ma è più che altro un invito o una roba del genere perché è aperto finalmente il nostro server di minecraft personale il nostro server cosa prevede questo bellissimo server intanto abbiamo froloxy e reddx froloxy lo conoscete tutti reddx no è il nostro editor diciamo si è anche quello di froloxy e oggi io e loro assieme cosa faremo faremo un piccolissimo tour di questo bellissimo server e potete notare che la lobby è esattamente fatta a stile halloween perché la lob diciamo che questo server è aperto nel mese di ottobre e quindi in quanto halloween questo scheletro fatto da me con le iliane dettagli di froloxy e la lapide di reddx questa zucca illuminante e tante altre cose che vedrete in futuro che modalità offriamo offriamo la survival i parkour e qualche volta ci piace fare anche degli eventi speriamo che vi potete divertire in questo server e noi ci becchiamo in un prossimo video bella rega allora in realtà non è proprio finito qui il video bene o questo vecchio filmato dio che costruivo letteralmente la controllo hacker e nel video mi sono dimenticato di dirvi diciamo l'indirizzo del server no è ecco è questo qui and firemc punto endermc punto fan entratici tutti comunque come potete vedere ho fatto a mano tutti questi spungiglioni del controllo hacker qui è dove letteralmente controlleremo i brutti che si presenteranno dentro il nostro sempre bene vi ho tormentato abbastanza quindi ci si vede nel prossimo video bella rega